Musica Bella a tutti folli e bentornati su DarkFollyChannel con un nuovo video sul canale Oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio della Brothercraft in compagnia di mio fratello che sta facendo parkour sopra la farm di folli Ciao Oggi la ci vuole morire abbastanza male Comunque ragazzoni prima di scoprire che cosa andremo a fare oggi ovviamente vi invito come sempre a superare gli 800 like per i prossimi episodi di questa serie E se siete al telefono anche se l'hanno sistemata spammate lo stesso like finché siamo sicuri al 100% che li metta Comunque dato che me l'avete chiesto negli scorsi episodi e dato che in questo periodo abbiamo fatto costruzioni estetiche e costruzioni di farm E da un bel po' che non andiamo a scavare e stiamo anche finendo praticamente le risorse E dato che ho visto che preferite non vedere la scavatura se così può dire in off camera ma la volete vedere in live Oggi con l'hack andremo a esplorare una grotta a vedere se riusciamo a trovare nuovi diamanti anche se ne dubito E tanto tanto altro quindi questo è quello che andremo a fare oggi Ovviamente vi invito come sempre a lasciare tanti commenti qua sotto se avete a suggerirmi qualche cosa che potrei costruire O di funzionale o di estetica la cosa indifferente E soprattutto sono andato a controllare qualche giorno fa come si fa la farm di golem E' una cosa parecchio difficile e penso la faremo molto molto più in là Quindi detto ciò adesso ci ribecchiamo appena troviamo qualche cavolo di buco dove possiamo scavare Ok guys eccoci qui abbiamo fatto praticamente all'incirca 100 blocchi anzi no 200 da casa nostra E siamo arrivati in questa pianura dove ci sono un paio di bugie quindi penso che questa sia una grotta Surtutto qua ci sono i maiali che poi potremmo anche prendere per fare la farm di maiali E a differenza degli scorsi episodi già l'hack è andata all'esplorazione Non siamo messi male ovvero abbiamo la full armatura io mi sono fatto due picconi Siamo pieni di cose da mangiare grazie alle varie farm che abbiamo E niente direi l'hack che possiamo iniziare a scavare A parte l'hack che ovviamente è nudo perché ogni santa volta L'hack dove cavolo si è finito L'hack quanti cuori hai? Tutti Va bene comunque ogni santa volta l'hack ci muore male e perde sempre la sua armatura Ho trovato 9 di ferro Ok comunque ci serve ragazzi qualsiasi risorsa andiamo a incontrare Perché la coal sembra inutile ma nella vanilla è una delle cose che viene a mancare sempre Perché devi in continuazione sciogliere blocchi per le costruzioni e risorse e altro E ti trovi alla fine senza coal anche per fare le torce Cioè buh Poi allora ovviamente ci serve il diamante perché ci sono rimasti tipo 3 diamanti Dato che l'ha tolta sono morto Ho perso anche i miei piccoli Ci abbiamo perso tutto il diamante che avevamo E ce ne serve anche per fare gli enchanting table e quella roba là Quindi almeno oggi dobbiamo riuscire a trovarne 4, 5 Almeno Soprattutto devo mettere le torce in ogni santo punto Perché se no voi non ci vedete un ciuffolo l'hack là sotto Che cosa c'è? Ok Ma poi va in profondità oppure finisce lì? Non lo so Vabbè allora mentre tu sei là sotto Io vedo qui se c'è qualche altro punicolo Cerchiamo di non separarci però tantissimo Due creeper e sono senza spada Come fa a essere senza spada? Beh ho sentito un'espressione Non potete esplodere tu Come fa a essere senza spada l'hack? Eh perché non ce l'ho L'hack va a scavare senza spada perché è un vero minatore fileno L'hack Ovviamente ragazzi soprattutto scrivetemi qui sotto nei commenti Se avete trovato e state usando il nostro mondo Avete trovato qualche spawner sottoterra Perché siccome abbiamo bisogno della sella per l'hack Dato che l'ultima volta l'ha spregata su un maiale e l'ha persa Eh ci servirebbe per l'appunto Mi dai legna che mi faccio le torce Mi dai legna L'hack ho la faccia di uno che ha legna? No non ce l'ho Dovremmo trovare il dungeon Un corolla delle miniere abbandonate per avere la legna Oppure detto che ancora siamo all'inizio della grotta Tu esci un attimo fuori e prendi un po' di legna Vedi tu Ok allora ragazzi rieccoci L'hack ha craftato un paio di torciole Il 1.64 l'hack ne avrà abbastanza E possiamo continuare con l'esplorazione In senz'altro ci dimentichiamo qualcosa Almeno stavolta abbiamo dimenticato qualcosa che non è essenzialissima e si può fare immediatamente Comunque allora qua la grotta continua Qua c'è l'acqua che la vado a togliere col secchiello perché non la voglio ammazzare Pover'acqua E dobbiamo vedere quale dei due lati porta giù L'hack da te la grotta continua o finisce? Dove sei andato? Finisce Finisce Ok Dobbiamo sperare che è da questo lato continuo Oppure dobbiamo andare nel buco dove è andato l'hack Ok un attimo lo sto controllando di qua Non voglio perdermi nulla No aspettate qui c'è zombie con l'armatura incentrata in later Ferro ferro Oddio l'hack abbiamo trovato la grotta perfetta Ho visto anche che c'è un buco gigante con la lava E dove c'è il buco gigante di solito ci sono i diamanti Dunque non siamo andati nella stessa direzione l'hack Ecco dove sono io e pieno di mob Ok Mi sembrava strano ragazzi che non c'erano i mob Allora c'è un creeper Due zombie e un ragno là sotto forse Non so se era un ragno o un movimento sospetto Ultimo colpo al creeper Ok L'hack cosa c'è da te? Eh infatti c'era il ragno Vabbè ragazzi ora me ne frego da sto lato se non c'è nulla E me ne vado dove ho visto che c'è la lava Però prima prendiamo qui Ah un domani Il ferro Che succede? Il luogo di lava Ah ok Stanno lottando Uh smeraldi E ancora non vedo il ferro L'ho visto l'hack Oddio Ma è un canyon a questa altezza Perfetto Con gli smeraldi ragazzi non so che cosa si possa fare A parte di trattare con i villager Lotta Oh c'è pieno d'oro Perfetto Ho visto anche ci sono i lapis Questa grattina è gigante Vedici scendiamo giù E poi in caso saliamo su Eh perché c'è l'oro Ci servirebbe E anche i lapis Per fare gli enchantato Che non abbiamo A casa Perché già con due armature Se ne vanno 48 Lo so Al caso ne vanno Verne tipo altre 40 Beh mettiamo le torce qua Qua non c'è nulla Perché mai lasciare Dei buchi incontrollati Perché ci può essere Di diamante nascosto Nei posti più ambicui Tipo qua sotto c'era Sto l'apiscazzolo Che manco si vedeva Ok Comunque l'hack L'hai preso tu l'oro Che era qua sopra? Che non lo vedo più No Sto andavanti Perché è infinito Non so ragazzi Se l'oro era di qua Può ce n'era anche Dall'altro lato Però l'ho perso Allora chi se ne frega L'oro ci serve Per fare la ferrovia E le golden apple Però un po' Golden apple Mi serve un pochino Uno spreco Altro smeraldo? E poi lo smeraldo È rarissimo come cosa Però Non c'è tutta Stabilità In realtà Non ne abbiamo trovato Assolutamente Oh la sola ci sono Altri smeraldi Silverfish Attento è sotto di te Ti serve una mano? Guarda Ma si è buggato Che sta facendo? What the fuck? Si è bloccato Nello spigolo Della roccia No Non c'è Sotto non c'è nulla Forse era un enderman Che si è teletrasportato Poi era là Che è passato Altra lava Ok Lago di lava Appoggio a posto dei diamanti Ci sono gli smeraldi Perfetto Perfetto un corno E sento Forse ho sentito una slime Insieme a mob Ho sentito Splish Splish Quale è Sì Guarda là Aspetta Dove è là? Guarda quel ferro Lo vai a prendere? Quale ferro? E' là E' là Dobbiamo andare di qua Tranquillo Si si No 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 Lo prendi tu Un secondo Se accanto non lo pigli No no Devo vedere Se puoi piangere? C'è il diamante Vuoi prenderlo? Piangi se lo prendi No prendilo Aspetta L'acqua c'è il lago di lava Se proseguiamo sul lago di lava Prendi quel ferro No Prendi quel ferro Se no che fai? Vabbè non vengo Ma perché devo prendere Tutto il ferro che vediamo? C'è anche quello dall'altro lato Lo devo prendere? No quello no Oddio Basta questo ferro Basta Lo so che molto presto lo finiremo Ma basta Anche perché tu quanti staccai? Io ne ho già due Di ferro Ma è un giacimento da venti questo Ah che a me non mi potevi aiutare a raccoglierlo Ma l'ho fatto io Non mi appoggio a farti perdere tempo Veramente l'hai fatto tu? Sì Ma se hanno strans Però c'è la redstone Che è accanto alla lava quindi Ovviamente viene bruciata la lava Mi sembra giusto Diamante Dove? Veramente eh? Non lo raccogliere Non lo raccogliere un secondo Che devo raccogliere qui Tutta questa Ed è uno mi sa Un solo diamante Che sfiga Vediamolo Devo vederlo Ci ha fatto soffrire così tanto E se solo uno A chi è scato tutto Lasciamolo Poeretto Lasciamolo duplicare Non scherzo È morto il diamante È morto Ciao L'imboscata Perché fu Aiuto Ammazzata E non ha droppato ma alcun pezzo d'armatura Sto stronzo Niente È finita È finita qui la nostra avventura Sì Quindi niente ragazzi Sto video è durato 20 minuti Con i tagli Ne vedrete 13 13 13 17 Più o meno Come risorse Allora Luck Passamelo Tutto a me Così facciamo un resoconto finale E poi niente Torniamo a casa a piedi Ci becchiamo Il prossimo episodio Con qualcosa che ci suggerirete voi Quindi in totale abbiamo trovato 3 stack e mezzo Di ferro 37 d'oro 9 smeraldi Un diamante E uno stack e mezzo Di lapiscaccio Vabbè abbiamo trovato un bel po' di cose Ci servono almeno Soprattutto per fare l'armatura Peccato per il diamante Che sono Rimasto senza Senza la piccola E ce l'ha solo luck Quindi niente ragazzoli Invito a superare gli 800 luck Per il prossimo episodio Vi invito A scriverci qui sotto nei commenti Come già detto Che cavolo potremmo fare Per i prossimi episodi E ci becchiamo Domani Con dei nuovi video Ciao ciao